Pensavate che vi avrei abbandonato? Dite la verità, abbiamo iniziato Merleau-Ponty, abbiamo iniziato a parlare di fenomenologia della percezione, già vi vedo disperati perché siete curiosi di sapere come va avanti il libro, anche perché è un libro difficile e noi siamo qua esattamente oggi per continuare a parlarne. Il video di oggi è dedicato alla prima parte dell'introduzione di fenomenologia della percezione. Allora, ho appena detto che è un testo difficile, non mi fa paura perché come sapete, anzi un target del canale peculiare è proprio quello di affrontare volutamente testi difficili. La mia idea di contributo online, rete, su YouTube è proprio aiutare chi vuole iniziare a leggere Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty ad avere un quadro d'insieme per capirci qualcosa, posto che io ci abbia sempre capito qualcosa, questa è la promessa fondamentale. Voglio continuare oggi a parlare con voi dell'introduzione. Abbiamo detto l'altra volta che Merleau-Ponty organizza il libro Fenomenologia della percezione con una premessa, e ne abbiamo già discusso e vi invito a recuperare il video precedente, è una lunga introduzione che dura all'incirca nell'edizione Bonpiani un centinaio di pagine in cui Merleau-Ponty va a analizzare un po' cosa si intende per percezione, che è una cosa molto importante ovviamente, e per sensazione. Soprattutto fa il paragone costante con l'intellettualismo, l'empirismo da un lato e dall'altro con Husserl, perché nella Fenomenologia Husserl è il capostipite, ovviamente di tutti i filosofi che si sono inseriti nella sua nuova disciplina, la Fenomenologia per l'appunto. Però Merleau-Ponty, nonostante sia ovviamente enormemente in debito con Husserl, lo riconosce lui stesso, ma si vede anche nella trattazione, su alcune cose, su alcuni temi molto importanti, ne prende le distanze. Quindi è interessante questa introduzione, perché Merleau-Ponty ci parla un po' di alcuni concetti chiave, campo percettivo o campo fenomenico, ego-meditante, per esempio, oppure sensazione, appunto, percezione, attenzione, memoria, e lo fa con richiamo ad Husserl, ma anche distanziandosi da Husserl. Ovviamente questo non è il libro adatto per fare un confronto diretto tra Merleau-Ponty e Husserl, quindi non è un testo, Fenomenologia della percezione, in cui si riprendono le idee husserliane per criticarle. Però è evidente la differenza, soprattutto riguardo ad alcuni elementi cardi, come per esempio l'attenzione. Infatti la prima parte dell'introduzione di Fenomenologia della percezione inizia con l'attenzione. Come intendiamo noi l'attenzione? Questo si chiede Merleau-Ponty, perché memore dell'insegnamento husserliano, dell'epoche fenomenologica, vuole mettere tra parentesi quella che è la nostra quotidianità, quindi il nostro approccio con il quotidiano, e vuole avviare un tipo di discorso filosofico diverso. Tutti noi nel quotidiano conosciamo la parola attenzione, e se ci pensate, quando cerchiamo di delucidarla, ci viene in mente un po' la metafora del riflettore. L'attenzione funziona come un raggio di luce che illumina una porzione del campo, no? Possiamo dirla così. Quindi, secondo noi, l'attenzione è un notare, quello che gli empiristi chiamavano Bemerken. E in effetti questo notare ha una lunga tradizione, però ha con sé anche delle implicazioni molto importanti, perché dire dell'attenzione che è un notare vuol dire che noi all'interno del mondo siamo in grado di gettare uno sguardo su di esso e di cogliere un elemento o più elementi, che sono le sensazioni per l'appunto, e metterle in luce, quindi farle venire in mostra. Vuol dire che noi abbiamo un possesso pieno delle sensazioni, il campo sensitivo, e che abbiamo un possesso pieno dell'oggetto. Quindi ci dice Merleau-Ponty, innanzitutto dietro questa visione dell'attenzione, per come la intendono gli intellettualisti e gli empiristi, c'è in realtà la mano del dominio del mondo, e c'è quindi già un preconcetto, ovvero che il mondo è organizzato come una tavola, more geometrico, esattamente come sosteneva Cartesio, quindi qua si ripropone quello che è stato, secondo Heidegger, l'errore della metafisica, ma secondo moltissimi filosofi del Novecento, ovvero la separazione, la diconomia, la distanza tra soggetto e oggetto. Secondo alcuni è costitutivo a questo, uno è anzi Jonas, del far umano, perché è biologicamente distante l'uomo dal mondo. Secondo Merleau-Ponty questo tipo di distingo, di distacco tra soggetto e oggetto, e quindi un soggetto che cerca e pretende, anzi, di conoscere, di prendere possesso delle cose tramite l'attenzione, deriva esattamente dal cartesianesimo. E allora Merleau-Ponty, che vuole mettere da parte tutti i peggiudizi, quindi vuole fare vera epoche fenomenologica, ci dice che il qualcosa percettivo, vi leggo io qua, ho degli appunti come sempre, è sempre in mezzo ad altre cose e fa parte di un campo. La pura impressione non è solo introvabile, ma è anche impercettibile e quindi impensabile come momento della percezione. Se ci fermiamo un attimo, cosa ci sta dicendo Merleau-Ponty? Ci sta dicendo che l'operazione che ha voluto fare Cartesio, che l'ha inaugurata, e che hanno voluto fare tutti gli intellettualisti e gli imperisti in seguito, Berkeley, Locke, Hume, Kant, tutti quanti, l'operazione di notare un qualcosa del mondo, portarla alla luce, possederne la qualità, è un'operazione impropria, perché l'impressione è inseparabile dal campo. Io su queste pagine di fenomenologia delle percezioni, che sono proprio le pagine iniziali, mi sono soffermato a lungo a pensare, ovviamente. Se voi ci riflettete bene, all'interno del campo percettivo, perché questo è il termine nuovo che inaugura Merleau-Ponty, chiama anche questo campo percettivo lo spettacolo del mondo, cioè il mondo si offre a noi come uno spettacolo, come fosse un palcoscenico, quindi all'interno di questo palcoscenico, di questo spettacolo, noi siamo abituati a pensare agli oggetti come delimitate da bordi, da contorni. Questo tema ritornerà nella prima parte legata al corpo, di fenomenologia della percezione, quindi dove finisce la figura e dove inizia lo sfondo. La psicologia della gestalt, ci dice Merleau-Ponty, la prima cosa che ci insegna a fare è distinguere tra figura e sfondo, e distinguere anche tra attenzione e tra percezione. Perché è importante il legame tra figura e sfondo? Perché in fondo la sfumatura che porta dallo sfondo alla figura e dalla figura allo sfondo non è mai definita. I contorni, i bordi di una figura, i bordi di un sasso che io vedo lì gettato in mezzo alla strada d'asfalto, quali sono? Cioè chi li ha stabiliti questi contorni? Non è, dice Merleau-Ponty, che noi vediamo un sasso come oggetto indipendente dallo sfondo perché siamo stati abituati a pensarlo così. Non è che noi siamo stati abituati a pensare la singolarità di un ente, quindi di un oggetto, come un qualcosa che si ritaglia su uno sfondo di impercetto, e inizia a utilizzare questi termini, impercetto per esempio, per stabilire ciò che non è percepito, cioè che non è rimarcato dall'attenzione. Quello che cerca di fare Merleau-Ponty, e mi scuso per la difficoltà, ma Merleau-Ponty è un attore difficile, è quello di operare un cambio di paradigma, vero e proprio. Fenomenologia della percezione è uno dei testi davvero che cambia paradigma nella storia della filosofia, perciò è un grande testo della filosofia in generale e poi di quella del Novecento in particolare. Anziché vedere l'oggetto come dotato di una propria stessità, di una propria identità, che è indipendente dal contesto, diciamo Merleau-Ponty, dobbiamo abituarci a vedere i contorni dell'oggetto come sfumati e l'oggetto come facente parte, influire di un contesto. Quindi il sasso non ha dei contorni come se qualcuno li avesse disegnati a matita e a tavolino stabiliti in modo geometrico, ma il contorno, il bordo del sasso, si confonde con l'asfalto della strada su cui poggia. L'asfalto della strada su cui poggia si confonde con le piante che sono nate della strada, le piante si confondono col cielo. Quindi, vedete, già iniziare a pensare così, come in un quadro impressionista, no? Iniziare a vedere il mondo come un mondo di sfumature, in cui i contorni degli oggetti si accavallano, si incrociano, è significativo perché cambia proprio la nozione che abbiamo di senso. Noi su questo canale abbiamo parlato di senso, no? Abbiamo parlato di senso in relazione a Freghe e abbiamo detto che, per esempio, secondo Freghe, il senso era ciò che è espresso da un pensiero. Quindi, in un certo modo, il senso era qualcosa che si poteva ottenere, era univoco in fondo, no? I pensieri possono essere espressi in modo diverso, possono avere, dice Freghe, diversi sensi, ma denotano uno stesso oggetto. Quindi, alla fine, c'è un elemento di identità che nella filosofia analitica e nella scienza è importante perché questo elemento di identità ci consente di delimitare gli oggetti all'interno di un campo fenomenico. Se non ci fosse questa operazione mentale ad aiutarci a delimitare un oggetto e a intenderlo come se stesso, rispetto e a rispetto di tutto il resto, le scienze non potrebbero esistere perché la scienza, per esistere, ha bisogno che l'oggetto sia estrapolabile dal campo percettivo per poterlo studiare. Quindi, in effetti, l'atto di attenzione dell'empirismo è funzionale alla scienza perché la scienza preleva l'oggetto dal campo percettivo tramite il bemerken, il notare, lo porta in primo piano, ne osserva le caratteristiche, ma prima di tutto questo ha già stabilito che l'oggetto ha un bordo, che i contorni dell'oggetto delimitano una figura che è indipendente dal contesto. Questa prima operazione Merleau-Ponty critica e ci vuole far aprire la mente sul fatto che il mondo è tutto unito, è tutto intersecato. E questa è la lezione anche di Heidegger. Mi scuserete se io sono sempre poi il solito e quindi ricado su Heidegger, ma ovviamente ci sono moltissimi legami tra Heidegger e questo testo di Merleau-Ponty o Merleau-Ponty in generale. Vi ricordate quando abbiamo parlato sul canale di Rimando e Segno in relazione a Essere e Tempo, se non vi ricordate, vi invito a riprendere il video nella playlist Heidegger, abbiamo detto appunto che il mondo è un mondo di rimandi, che è il senso del mondo secondo Heidegger sta nella sua appagatività, che è l'appagatività degli enti a costituire la loro significatività. E Merleau-Ponty alla fine dice la stessa cosa. Il mondo è un mondo di rimandi, l'impressione singola, la sensazione singola, per esempio il colore rosso del libro che ho qua sul tavolo, non esiste come colore in sé, perché è sempre legato a un oggetto che oltre al colore rosso ha altre proprietà. E queste proprietà delimitano un oggetto attraverso una figura, la figura ha un bordo, però l'oggetto sta sul tavolo, il bordo si mescola al tavolo, il tavolo si mescola come figura, intendo, come bordo, ha la terra su cui poggia, la terra si mescola alla finestra, e quindi un oggetto in effetti rimanda a tutto un universo di cose, di altri oggetti, che non è che non fanno parte della sensazione, dice Merleau-Ponty, ne fanno parte, solamente che noi siamo abituati a non considerarli, a trattarli come sfondo. E questi oggetti però fanno parte dello spettacolo del mondo, del campo percettivo. Merleau-Ponty ci dice che i psicologi sono abituati a considerare una sensazione sbagliata come una sensazione che in fondo ha frainteso l'oggetto in questione, e perché l'oggetto in questione deve avere già prima della sensazione delle determinate caratteristiche. Per esempio, se io vedo un tavolo, io posso dire di un tavolo un po' strano, e posso illudermi che non lo sia, no? Faccio un esempio io, questo è un esempio che ho creato sul momento. Ma lo posso fare perché ho già in me un'idea di tavolo, perché ho già un insieme di abitudini che mi hanno portato a lavorare un'idea di tavolo. Infatti, questo video si chiama Attenzione e memoria, perché ora arriviamo anche alla parte della memoria. Dice Merleau-Ponty, la psicologia si sbaglia a intenderla così. Non esiste un senso unico del mondo oggettivo da interpretare in modo univoco. Questo è un grosso errore che non ci fa comprendere, dice Merleau-Ponty, da un punto di vista psicologico, per esempio, le illusioni. Questo è il capitolo anche delle illusioni. Ora ve ne faccio vedere una che Merleau-Ponty cita nel testo, che è questa qua. Questa illusione, questa si chiama Illusione di Müller-Lyer. L'illusione di Müller-Lyer, dice Merleau-Ponty, è costituita dal fatto che abbiamo due segmenti esattamente di uguale lunghezza, però mettendo le frecce in modo diverso, al contrario nella figura di sopra rispetto a quella sotto, a noi sembra che questi segmenti siano molto diversi tra di loro. Ecco, questa illusione, dice Merleau-Ponty, come la spieghiamo? La psicologia ci dice che è una sorta di errore di configurazione della testa, del cervello. È un bias, chiamatelo come vi pare, quindi è un meccanismo inconscio che ci porta a illuderci riguardo a queste linee, ma queste linee in realtà oggettivamente sono la stessa linea. Il segmento è sempre quello, dice la psicologia. E questa psicologia segue la geometria, segue l'andamento e il fare scientifico. Ora, Merleau-Ponty dice no, quando io ho un'illusione del genere e poi vedremo nel prossimo video l'illusione di Solner che è ancora più significativa, non è che io sto vedendo in modo errato lo stesso segmento. Vedete come di pezzo l'approccio, no? La scienza dice che io sbaglio a vedere lo stesso segmento come diverso. Merleau-Ponty ci dice no, ho in effetti due percezioni distinte. Se io avessi la stessa retta con le stesse frecce replicata sopra e sotto e quindi vedessi lo stesso identico oggetto, sarebbe un'illusione, una percezione, scusate, totalmente diversa da questa. Non esiste un senso oggettivo del mondo e quindi la verità che cos'è? Ci dice Merleau-Ponty e in questo passo che poi ne parleremo anche nel prossimo video meglio, ma in questo passo di straordinaria importanza dove Merleau-Ponty riflette sulla verità e sul giudizio, è incredibile come ci sia un accostamento proprio con Hans Jonas, che è un atto filosofo che come sapete stiamo trattando sul canale. Anche Jonas credeva che alla base della falsità e della verità, quindi del giudizio vero-falso, ci fosse la percezione e che a seconda del mutamento di percezione mutasse questo giudizio. Merleau-Ponty ci dice lo stesso, a seconda del tipo di esperienza che abbiamo noi col campo fenomenico, a seconda di come ci rivolgiamo nei confronti dello spettacolo del mondo, noi mutiamo anche giudizio, ma questo perché il senso non è calato dall'alto, non fa parte di quel terzo mondo delle cose che diceva Frege, che sta al di là dei pensieri e al di là degli enti, ma il senso è un qualcosa che creiamo noi con la percezione e la percezione che fa emergere il senso e l'uomo percependo che fa emergere il senso e questo vuol dire che a seconda di chi guarda, a seconda di cosa viene guardato, di come si dispone l'oggetto, ne abbiamo percezioni diverse. Mettiamo che io guardassi questa stessa fotocamera dal davanti e dal di dietro, la fotocamera è la stessa, quindi, pensando alla come gli analitici, potremmo dire la mia percezione denota lo stesso oggetto, ma io mi sto mettendo davanti e di dietro la fotocamera. Quando la guardo davanti alla fotocamera appartiene anche lo sfondo, appartiene anche il di dietro che io costruisco ricamando alla memoria delle percezioni, delle situazioni percettive analoghe. Quando la guardo dal retro, uguale, ricostruisco il davanti richiamando alla memoria percezioni analoghe. però le due esperienze non denotano, non sono le stesse, diciamo, non hanno a che fare con lo stesso oggetto inteso in modo scientifico. Perché l'oggetto fotocamera non ha quei bordi che ci dice la geometria, perché i bordi si confondono con lo sfondo, perché io in una percezione ho visto il retro e nell'altra ho visto il davanti dell'oggetto. Allora, dice Melo Ponti, a tutti gli effetti si tratta di percezioni distinte. Voi direte, ma cosa serve riflettere su questa roba? A noi cosa ce ne importa in fondo, di tutte queste questioni? Io sto bene così. Io a credere che la fotocamera che ho davanti a me o queste luci che ho qua davanti siano oggetti geometrici, che abbiano una figura definita, che la figura sia il risalto rispetto a uno sfondo come dice la Gestalt's Theory, ma io cosa me ne frega in fondo? Beh, la cosa interessante è che questo porta a un ribaltamento di prospettiva nei confronti del corpo. Il corpo sarà il grande protagonista di fenomenologia della percezione, grande protagonista della prima parte. Perché ovviamente quando io mi impegno in una percezione, se io parto dalla premessa, ci dice Melo Ponti, di assumerla, che non posso estrapolare impressioni singole, ma sono coinvolta a tutto tondo, con tutto il mio contesto, tutto il mio ambiente nella percezione, è ovvio che tutto questo ha bisogno del contributo fortissimo del corpo. Mentre per l'intellettualismo e l'empirismo, l'oggetto è posto a distanza, e io osservo con gli occhi, non facendo nulla con gli atti sensi, e l'impressione ricavata con gli occhi la posso estrapolare, quindi posso ridisegnare su un foglio di carta la fotocamera, ci dice Melo Ponti che invece, secondo la fenomenologia, la sua perlomeno fenomenologia, bisogna considerare la percezione come un qualcosa che coinvolge tutto il corpo, quindi tutti gli altri sensi. Non esiste una fotocamera in sé, da sola, che si erge come oggetto visivo e basta. La fotocamera comunque ha un odore, ha un sapore. Se io lecco la fotocamera sento il sapore del metallo, per esempio, no? La fotocamera ha una certa ruvidezza, qui dal tatto risponde in un certo modo. Ora, io tutti questi elementi, ci dice Melo Ponti, quando faccio una percezione, come le vinco? E le vinco per forza di cose da esperienze analoghe che ha avuto in precedenza. Ma cosa vuol dire questo? Che io associo attraverso la memoria il singolo percetto, la singola qualità della fotocamera? Facciamo un altro esempio. Mettiamo che mi si presenta davanti una bottiglia d'acqua di diverse fattezze rispetto a quelle di quelle bottiglie che ho visto finora, no? È la bottiglia di vetro, quindi io già so che al tatto se la tocco so aspettarmi un certo feedback. Potrei rimanere sorpreso però, ovviamente, perché i feedback possono cambiare sulla base di molteplici fattori, no? Che non sono solamente fattori tatti, io vi faccio un altro esempio per farvi capire meglio. Ecco, questo esempio del tatto, io come l'ho ricavato? Come mai mi aspettavo che la bottiglia si comportasse nello stesso modo ma non sono sicuro di quel comportamento finché non l'ho ripercepita? Me l'aspettavo perché io nella memoria conservo memoria di percezioni passate. Allora, se noi teniamo in mente che la percezione, secondo Merleau-Ponty, non è la sensazione che era quella degli empiristi o degli intellettualisti, quindi che non è una somma di qualità che sono ritenute nella memoria riapplicata all'oggetto, ma è un'esperienza totale che coinvolge in me l'altro e il mondo. Infatti lo dice poi Merleau-Ponty in questa traduzione il trinomio se altro mondo, quindi è un'esperienza totale che viene immagazzinata in modo indeterminato e riapplicata in modo altrettanto indeterminato alle nuove percezioni. Se noi teniamo conto di questo ci rendiamo conto come è possibile essere preparati e essere pronti a nuove percezioni. Vi volevo fare un altro esempio che è l'esempio del vino. Una sera ero a cena con mia moglie assaggiavamo le sommelier e assaggiavamo un buon vino e mi parlava delle caratteristiche di quel vino. Mi parlava anche dei profumi che sentiva da quel vino rosso e ha citato il profumo di prugna per esempio. Allora un vino ha profumo di prugna o è la prugna che ha profumo di vino? Vedete come già cambiare prospettiva aiuta soprattutto in quei contesti dove le sensazioni come l'elleno o gastronologia sono importanti? Perché dico questo? Perché la caratteristica prugnosità per esempio che noi attribuiamo in modo analogo la prugna al vino non è la stessa nella prugna e nel vino. Se io bevo lo stesso vino in due bicchieri di forma diversa fate l'esperimento a casa mettete lo stesso vino magari un vino che vi piace in un bicchiere di plastica che non dovrebbe rilasciare niente dovrebbe essere in odore e in sapore non la plastica in un bicchiere di vetro in un bicchiere di vetro magari quelli da cucina da acqua in un bicchiere di vetro col calice grosso. Le tre percezioni di assaggio dello stesso vino sono diverse. Ecco Merlo Pontier Merlo Pontier ci dice non esiste la qualità singola del vino la qualità singola della pietra ma è tutto mischiato tutto indefinito bisogna ridare dice Merlo Pontier in un elemento in un punto bellissimo bisogna ridare dignità all'indeterminatezza noi siamo abituati a che fare con qualità determinate il mondo è fatto di sfumature è come un quadro impressionista quindi il mondo è fatto di indeterminato e di indeterminatezza. due modi ci sono dice lui di ingannarsi sulla qualità uno è fanno un elemento della coscienza mentre è un oggetto della coscienza la qualità non è un elemento appartenente alla coscienza e l'altro è credere che a livello della qualità questo senso e questo oggetto siano pieni e determinati entrambi gli errori derivano da pergiudizio sul mondo dice Merlo Pontier noi siamo talmente presi dal mondo talmente presi dall'idea che abbiamo del mondo perché noi prima di fare la percezione abbiamo dei preconcetti dei pregiudizi noi siamo convinti per esempio che possiamo analizzare un oggetto esterno quindi sono talmente presi da quest'idea che la credenza ha un ruolo enorme influenza in modo enorme il nostro giudizio percettivo quindi talmente ne siamo presi che quando percepiamo ci sembra che il mondo sia fatto di oggetti a sé stanti mentre è fatto di oggetti indeterminati la nozione di attenzione vi leggo sempre dei passi non ha di per sé alcuna testimonianza per la coscienza l'attenzione che funziona come un riflettore non vuol dire nulla non esiste è solo un'ipotesi ausilaria formulata per salvare il pregiudizio del mondo oggettivo dobbiamo riconoscere l'indeterminato come un fenomeno positivo il senso che in questo contesto racchiude la qualità è un senso equivoco si tratta questo è bellissimo il passo è molto importante di un valore espressivo piuttosto di un significato logico il mondo non è fatto di significati univoci quando io ho davanti l'illusione di Müller-Leyer questi due simboli queste due rette sono un valore espressivo non hanno significato logico non hanno significato determinato bisogna rintrodurre l'indeterminatezza all'interno della nostra coscienza del nostro campo percettivo e il campo percettivo è fatto di cose e di vuoti fra le cose i vuoti fra le cose sono importanti quanto le cose io grazie alle mie esperienze passate ritengo le percezioni nella memoria quindi mi ricordo delle sensazioni provate mi ricordo di dove ero magari quando ho fatto quella percezione ma queste percezioni non funzionano come somme di qualità determinate e qua ritorniamo in modo sorprendente al primo testo di Husserl che è la filosofia dell'aritmetica in cui Husserl si chiedeva se venisse prima l'intero le parti quindi se le cose fossero somme di qualità e quindi fossero insiemi mereologici oppure se fossero insiemi oologici quindi olon intero noi in greco se fossero insiemi che vengono prima come unico rispetto alle parti me lo punti ci darà risposta il mondo viene prima rispetto a tutto il mondo viene prima rispetto alla percezione prima rispetto al cogito cartesiano è sempre lì ha già un suo senso che noi poi li riapplichiamo sulla base di quello che abbiamo imparato dalla nostra esperienza attraverso la memoria però ogni nuova percezione noi rimpariamo qualcosa di nuovo e questo può gettare nella disperazione lo scienziato ovviamente mi rendo conto che ve l'ho detto anche nell'altro video l'approccio di Miro Punti è un approccio molto poco scientifico e potrebbe anzi in alcuni punti risultare contrario alla scienza ma non è questo il punto il punto è che la scienza agisce per forza di cose attraverso un metodo che decide di porre tra i suoi assiomi quella della separazione tra oggetto e sfondo la fenomenologia della percezione quindi la percezione dice Miro Punti deve avere come assioma di fondo quello dell'indeterminatezza non della determinatezza sono due punti di vista totalmente differenti sempre rispetto alla memoria questo è un altro passo che voglio leggere perché ovviamente io ho evidenziato dei passi che per me erano più importanti e leggere dalla bocca del filosofo aiuta a capire percepire dice Miro Punti non è sperire una moltitudine di impressioni che condurrebbero con sé ricordi capaci di colpetarle ma vedere scaturire da una costellazione di dati un senso immanente senza il quale nessun appello a ricordi è possibile vedete come tutto sfumato ecco perché è un autore difficile Miro Punti percepire non è richiamarsi una collezione di dati e vedere scaturire un senso immanente da quei ricordi che viene riapplicato all'esperienza attuale l'esperienza attuale fornisce un nuovo senso però che viene riaggiunto ai ricordi e pronto per essere utilizzato per una nuova esperienza funzioniamo così di Miro Punti qua ci stiamo muovendo in quel campo che già Husserl aveva chiamato campo pre-apofantico quindi in quella zona pre-esperenziale anche pre-giudicativa in cui noi ci stiamo analizzando ci stiamo interrogando su cosa costituisce il nostro campo percettivo la nozione di campo in sé è significativa perché il campo abbraccia tutto sta dietro a tutto davanti a tutto unisce tutto non lascia figure delimitate su uno sfondo ed è necessario percepire e quindi Miro Punti in questa introduzione ci chiarisce bene cos'è la percezione perché questo è fondamentale poi quando parleremo di corpo eccetera l'ultimo punto di cui voglio parlare è questo quando Miro Punti se la prende un po' quell'empirismo e poi lo continueremo nel video dopo questo discorso perché già credo che è venuto molto lungo il video lui definisce paramitya tutto ciò che le costruzioni empiristiche rendono incomprensibile e tutti i fenomeni originali che occultano la vita mentale si ritira in coscienze isolate e aperte soltanto all'introspezione anziché svolgersi nello spazio umano cosa vuol dire questo passaggio Miro Punti ci dice che l'intellettualismo e l'empirismo hanno il grosso difetto di mitizzare di fare dei paramiti quindi di ricondurre il mondo culturale il mondo umano la natura la religione a compartimenti stagni fatti da oggetti univoci da somme di oggetti col risultato che l'unica operazione che rimane da fare alla coscienza è prelevare questi oggetti singoli e analizzarli in modo individuale e allora cosa succede? che la vita mentale si ritira in coscienze isolate quello che ci sta dicendo Miro Punti è che un grosso problema di tutte le filosofie prima della fenomenologia che è stato quello del solipsismo quindi una coscienza che si scopre come da sola isolata rispetto a tutto dopo che ha fondato se stessa è un non problema è un problema nato da un atteggiamento sbagliato da un'idea preconcetta sbagliata che abbiamo nei confronti del mondo se noi partiamo con l'idea che non siamo parte di un mondo e c'è un punto in cui Miro Punti sempre con riferimento a Jonas interessantissimo questo ora non lo ritrovo ci dice che un oggetto è un organismo ora non lo ritrovo ma era bellissimo un oggetto è un organismo di colori odori suoni quindi quando noi non ci conciamamo più come organismo ma come macchina e quindi la macchina è delimitata la macchina ha delle funzioni predefinite eccetera noi perdiamo del tutto la comunione con la natura alle cose eccetera ecco perché ci dice tra i paramiti a tra i paramiti letteralmente che crea l'empirismo e che crea anche l'intellettualismo vi è quello di relegare la coscienza all'isolamento perché elimina il mondo culturale il mondo natura eccetera e li relega nello sfondo mentre sono molto importanti anche per l'analisi percettiva quindi quello che vorrei lasciarvi con questo video è una prima caratterizzazione di percezione di Merleau-Ponty che è costituita dalla complessione dell'esperienza effettuata dal corpo calato in un mondo attraverso tutti i sensi di questo corpo e non attraverso la singola impressione ed ecco perché nello scorso video vi ho detto che Merleau-Ponty in questa introduzione criticava Husserl perché e ne parleremo meglio nel prossimo video l'attenzione secondo Husserl era un qualcosa che serviva a intendere un oggetto attraverso un atto che lui chiamava posizionale o tetico quindi far venire un oggetto alla coscienza illuminando le proprio le caratteristiche e rendendolo materia adatto è un po' complicato di nuovo me ne rendo conto se siete arrivati in fondo al video scrivete Paramitia è un po' difficile si scrive col T-H-Y-I-A alla fine sì I-A e ditemi cosa ne pensate di questo video ditemi se avete letto il libro se avete iniziato a leggerlo Fenomenologia della percezione è un libro che per me è importante che cambia molto la prospettiva grazie per essere stati con me ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti.